con questo video vedremo come stampare gli indiritti su busta da lettera prelevando i dati decontati da un foglio di excel per prima cosa andiamo su layout personalizza ed impostiamo il formato della busta da lettera orientamento orizzontale una riga ed una colonna eliminiamo gli angoli ed impostiamo i margini con un valore uguale a zero cancelliamo gli elementi d'esempio ora dobbiamo collegare il foglio di excel con la nostra lista di contatti alla veljoy prima però diamo un'occhiata al foglio di excel abbiamo i dati gli indirizzi dei nostri destinatari e nell'ultima colonna il numero di buste destinati ad ognuno come vedete la prima riga all'intestazione di colonna procediamo a collegare il foglio clicchiamo su collegamento sorgente dati dalla barra degli strumenti i dati risiedono in un file excel lasciamo le impostazioni predefinite ed andiamo ad aprire il nostro file la prima riga contiene l'intestazione di colonna e decidiamo di collegare il foglio 1 con questa funzione possiamo decidere il numero di etichette da stampare per ogni destinatario riferendosi ai dati presenti nel file excel in questo caso numero buste possiamo scegliere tra alcune opzioni come attivare un ordinamento oppure impostare dei filtri multipli scegliere ad esempio destinatari che nel campo città hanno la voce tivoli questa è la nostra lista dei contatti e siamo pronti per connetterli inseriamo un oggetto testo e colleghiamo a questo oggetto tutti i campi che ci interessano diamo ok e vediamo il risultato modifichiamo ora alcune impostazioni del testo facciamo doppio clic sul campo e andiamo a modificare le impostazioni come ad esempio il carattere e l'allineamento possiamo riposizionare il nostro blocco trascinandolo con il mouse inseriamo ora i dati del mittente in questo caso il terzo sarà costante e non dovremo collegarci a nessuna base dati ed inseriamo infine il nostro logo le nostre buste sono pronte per essere stampate ci basterà impostare il formato corretto nelle impostazioni della stampante grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti